Amici di questo canale, ciao e benvenuti a questo nuovo video, bentornati a questo nuovo video se già mi seguite, io sono Jenksa e in questo video brevissimo vorrei parlarvi di Overwatch 2, nello specifico della stagione 9 di Overwatch 2 che è iniziata a fine febbraio del 2024 con dei grossissimi cambiamenti al roster dei personaggi, personaggi completamente reworkati, secondo me male. Ma quello di cui voglio parlare non è il rework dei personaggi, perché ci sono mille mila milioni di video che parlano del rework dei personaggi, ma del nuovo sistema di classificazione dei gradi delle Ranked. Praticamente ti fa vedere questo schema, informazioni grado, in cui c'è una barra di progresso delle promozioni. Se voi andate a cliccare la piccola i che c'è piccolina in basso, vi dice progresso promozione grado, questa barra progressi mostra la crescita o la riduzione del tuo grado in base ai risultati di gioco, di un incontro, scusate. Maggiore è la sezione evidenziata, maggiore è stato il guadagno o la perdita di grado. Qui sotto trovi i motivi per cui potresti, non puoi, potresti aver guadagnato o perso di grado. Potresti, sottolineo per la sesta volta. Allora, progresso, serie di vittorie, bonus per un'elevata percentuale di vittorie. Ci sta, ci sta, secondo me ci sta. Battaglia in salita, non eri tra i favoriti, ma hai vinto. Quindi mi stai dicendo che il matchmaking fa apposta a mettermi tra gli sfavoriti. Yes! Vabbè, non era 50-50 di possibilità di vittoria. Ah no, era la stagione vecchia, ma comunque. Altro motivo di salita, consolazione. Non eri tra i favoriti e hai perso. Cioè, sfigato, sfigato. Vabbè, se sei sfavorito e vinci o perdi, più o meno ti ricompensano. Ci sta. Quello che tu sia sfavorito non capisco, però vabbè. Motivo di calo. Serie di sconfitte. Penalità per un'elevata percentuale di sconfitte. Ma scusa. Ma se io perdo, vuol dire che mi stai mettendo contro dei... Mi stai facendo delle partite troppo difficili per me. Perché mi devi punire pure? Che cacchio di ragionamento è? Inaspettato. Eri tra i favoriti, ma hai perso. E anche qua. Ho già perso. Mi devi pure saccagnare. Previsto. Eri tra i favoriti e hai vinto. E quindi, se sono tra i favoriti e vinco, è un motivo per cui il grado scende e vinco? Ma siete scemi? Calibrazione. Il tuo grado è incerto. Sali o scendi? Non si sa. Incerto. Hai perso incontri di calibrazione. Dopo aver aumentato il tuo grado. Ah, ok. Quindi ho capito. Le ranked sono a caso. L'unica cosa sicura è che se vinci, se vinci, ti sfavoriscono. Perché era previsto. Ma che c***o? Come c***o state gestendo la cosa? Ma vi siete fumati il cervello in Blizzard? Probabilmente sì. Non vedo altra spiegazione. E con l'ennesimo rant su Overwatch 2 questo video si conclude. Qui. Io spero che abbia interessato a qualcuno, sia piaciuto a qualcun altro e che magari mi lasciate un bel mi piace e vi iscriviate al canale per vedere quando pubblicherò nuove boiate come questa o come le live di Eurotrack Simulator 2 o di altri giochi che faccio alla sera dal venerdì al lunedì qui su YouTube. normalmente su Twitch. Per questo video comunque è tutto e noi ci vediamo al prossimo. Emilia Grazie.